Buongiorno a tutti, inizia il mister. Perez ieri ha fatto allenamento a parte perché ha questo trauma contusivo alla coscia sinistra, però ha fatto tutto l'allenamento, oggi rientra in gruppo e è tutto a posto. Strottmann e Vermeilen sono in gruppo, tutto a posto. Florenzi, Salai e Paredes proseguono il percorso. Quella che è la novità che ci garba poco è che Francesco ha la febbre alta, Totti ha la febbre alta. Ha preso un virus intestinale. Il dottore ci è andato stamani, è stato un po' lì, però è impossibile recuperare per domani per come l'ha avuto e per come l'ha preso. Possiamo iniziare con le domande. Inizia Giannini, Roma TV. Buongiorno mister, sono qui. Si dice comunemente che il derby è una di quelle partite che mentalmente si preparano da sole. Quanto è stato invece difficile preparare la partita di domani, proprio alla luce del fatto che viene dopo la settimana del derby? Guarda, io ne fò sempre un discorso un po' diverso. Credo che il nostro campionato è uguale, è tutto difficile. Le partite si vedono poi dopo aver passato un periodo, si possono fare delle valutazioni in generale da portare poi agli occhi dei calciatori. che sono difficili, abbiamo lasciato dei punti per strada che non dovevamo lasciare, poi magari siamo andati a riprenderli contro delle squadre toste, veramente toste. Per cui quello che diventa fondamentale è che si possiede solo il presente, cioè non bisogna guardare indietro, non bisogna andare a preparare quella futura. Noi si possiede solo il presente, bisogna sfruttare il massimo dal presente. Per cui quando si va a organizzare quello che è un lavoro e quella che è un'attenzione, è ora, il momento è ora, è sempre quello che vivi. Quindi se uno riesce a vivere sempre nel presente, si accorgerà che è tutto più facile poi in funzione dell'obiettivo e del risultato finale e soprattutto vivrà con più gioia, più intensamente quella che è la propria vita, la propria professione. e noi dobbiamo dare peso a tutte le partite allo stesso modo, non andare a rivangare su cose, non guardare ma fra un mese, ora, il momento è ora, sempre nel calcio. È quello che è la partita che giochi, è il momento che vivi, è quello che bisogna sfruttare. Paisano, Roma Radio. Salve mister. Poco fa hanno chiesto a Montella quale elemento avrebbe voluto togliere alla Roma e lui ha risposto Spalletti. Chiedo a lei quindi quale elemento vorrebbe togliere al Milan? È Montella. Perché... Perché Roma è casa sua, l'Olimpico è casa sua, lui conosce bene tutto. Poi lui ci ritornerà da allenatore, sicuramente, e sarà un bel allenatore per la Roma, perché Montella sarà un grande allenatore. Per ritirargli la palla che ci ha tirato lui, parlandosi chiaro, è che è vero che la Roma è stata costruita per vincere, mentre il Milan non è stato costruito per vincere. Per cui il fatto che il Milan sia insieme alla Roma evidenzia quello che è il vero valore degli allenatori. Io sto facendo una cosa normale, lui sta facendo cose straordinarie. Per cui fra i due è lui quello bravo in questo momento qui. E lo diventerà anche in futuro ancora più bravo. Perché ho letto anche che mi ha perdonato. E mi fa piacere. D'altronde poi è più facile capire i genitori quando lo si diventa. E ci saranno... C'ha già quei due o tre che lo perdoneranno in futuro. Angelo Mangiante, Sky Sport. Interessante questa chiave, addirittura la riprendo. C'è un Milan che non è stato costruito per vincere perché in effetti c'era un po' di diffidenza all'inizio del campionato sulla capacità di rendimento. Una squadra che ha avuto un po' di problemi negli ultimi anni. Però è seconda a pari punti della Roma. Ma con quali chiavi tattiche? Cioè qual è il pregio tattico di questo Milan? Quindi l'elemento che può mettere in difficoltà anche la Roma. Guarda, lui secondo me ha il suo marchio di essere allenatore, che è quello della gestione della palla, che è quello del palleggio, che è quello di essere squadra. Lui passa sempre attraverso poi il collettivo. Era quello di cui aveva bisogno quando giocava. Cioè lui non aveva bisogno della palla lunga, non aveva bisogno della ripartenza, aveva bisogno della squadra che si posizionava nella metà campo avversaria, che palleggiava, che gli faceva venire a toccare palla fra le linee. Poi si allungava dietro i difensori, riveniva basso e poi, quando era il momento, ora la tengo io e faceva tutto da solo. Lui riporta un po' il suo marchio da calciatore, questo fatto della rapidità, della velocità di pensiero. Lui era uno sveltissimo, era sveltissimo con i piedi, è sveltissimo con la mente e con l'astuzia. Ora era un astuto come giocatore. Lui aveva tre o quattro cose che gli altri sapevano, una o due in particolare, però la faceva talmente bene che poi decideva di passare di lì. E anche se ce l'aspettavi e se lo sapevi, lui ti passava di lì. Lo stesso ora da allenatore, c'è la sua idea ben chiara che non sarà facile poi da togliergli, però soprattutto per questo sarà una partita bellissima, secondo me. Perché tutte e due le squadre hanno lo stesso obiettivo, quello di fare la partita. E tutte e due le squadre possono andare poi a vincerla. L'ultima curiosità è su strotto, hanno visto che se ne parlavo tantissimo in questi giorni, ma soprattutto ecco, voglio sapere un po' come ha gestito questa situazione anche il calciatore, se poi realmente va via tutto dalla testa ed è pronto per giocarla questa partita dopo essere stato appunto squalificato e poi l'annullamento della squalifica. È già andato via tutto, nel senso che noi per quanto riguarda i derby abbiamo già dato nel 2016, andiamo a riparlare nel 2017. Insomma, se proprio bisogna ricordare qualcosa è il fatto del guantone di Angelo Peruzzi del buon lavoro che ha fatto con Inzaghi per portare poi la squadra a questi livelli qui. e si fa solo quel ritorno lì. Poi per il resto si va a riparlarne nell'anno prossimo di derby, di quello che è successo nel derby. E, come dicevo prima, a noi interessa la partita di domani sera. Insomma, le attenzioni sono tutte per la partita di domani sera. Si va oltre. Goriara e Sport. Buongiorno Spalletti. Sì. In che misura la partita di domani può essere decisiva per laureare l'anti-Juve? Adesso chiaramente si gioca il derby a Torino, non sappiamo come è. Il Napoli ha vinto 5 a 0 a Cagliari. La Roma, vincendo domani sera col Milan, ridiventa l'anti-Juve. Può ridiventare un campionato a due? No, noi vogliamo essere la squadra che ha vinto contro il Milan, non l'anti-Juve. La Juve ci si gioca dopo e se ne parlerà in quella settimana lì. Poi il discorso iniziale era quello del tentativo di racchiudere anche che si possiede solo adesso. perché domani ci può succedere di tutto e non si sa poi doma l'altro in base a quello che ci succede domani come sarà. Quello che è passato è inutile andare lì a soffermarsi se no poi non c'è marcia indietro come si dice. diventa fondamentale per la nostra classifica e per la nostra identità, per quello che sono i nostri obiettivi di questi due giorni. Vincere la partita contro il Milan. Noi la vogliamo vincere assolutamente. Siamo costruiti per vincere le partite e poi si vedrà che scenario si apre. Il parlare dei futuri avversari è una cosa che non ha senso se non fai bene il presente. Bisogna fare dei passi corretti oggi per dare seguito a questi passi corretti domani. Vincere contro il Milan assolutamente ora. Giucchelli, Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Lei prima ha detto che quella di domani sarà una partita bellissima. L'Olimpico sarà finalmente abbastanza pieno con oltre 40.000 spettatori. Strotman ha detto alla Gazzetta che il calcio italiano presto crescerà, insomma è in crescita. Secondo lei, anche per come giocano le due squadre, può essere la partita di domani proprio uno spot per il calcio italiano in questo momento? Sì, può essere. Quella del Napoli oggi lo è stato, uno spot perché il Napoli ha giocato una grande partita. Le partite che si vedono in questi ultimi periodi dicono che ci sono molte pretendenti poi per l'alta classifica e giocano tutte un buon calcio. Per cui è corretto dire che il nostro calcio è in crescita, è corretto dire che il calcio che giochiamo attualmente in Italia è un calcio di livello, è corretto dire che quella di domani sera sarà una bella partita. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. A proposito di questo discorso comparato calcio italiano e calcio internazionale, la Roma di quest'anno ha guadagnato 43 cm e 39 kg rispetto a quella dello scorso anno, quindi è una squadra oggettivamente più fisica. Le piace di più, nella sua idea di calcio, quella veloce a tutto gas che si vedeva l'anno scorso, questa capace di vincere le partite a volte anche con i muscoli e, sullo stesso tema, sta proprio cambiando il calcio a livello europeo sul piano fisico, visto che anche Guardiola, come si è visto ieri contro il Leicester, sembra un po' in difficoltà con i suoi metodi. Io penso che sia più completo, se ci si mette un po' di fisicità, il fatto che poi tu riesca ad arrivare agli obiettivi e tu abbia anche, diciamo, lo scettro pur giocando in velocità e giocando con la palla in terra, è un valore in più. Però poi la fisicità ti dà molto, perché le palle inattive ora sono nel calcio quelle che decidono molti risultati, la fisicità, la velocità è quella che ti fa sopperire alla qualità tecnica dell'avversario, per cui vanno bene sempre tutte le soluzioni e le strade da percorrere. E' chiaro che se riesci a mettere più componenti dentro le qualità, ci sono dei vantaggi. Ecco, ci sono dei vantaggi. Io quest'anno, diciamo, è la cosa che è più evidente da quello che è stata la Roma dell'anno scorso, è che l'anno scorso era senza Edin e quest'anno è con Edin. Però io quando ho parlato con lui, quando mi è venuto a chiedere spiegazioni, ossia spiegazioni può essere brutto, ma è venuto a parlare con me, perché io con i miei giocatori, sia l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, ho un buonissimo rapporto. E poi è chiaro che ci sono ruoli, punti di vista, ci sono le situazioni, allora qualche volta bisogna andare anche a confrontarsi in maniera corretta. Ma io gli ho sempre detto che la mia Roma la vedevo con lui e lui lo può dire, se lo ricorda bene. Una volta in ufficio da me che mi è venuto a dire, ma io se poi il canovaccio è questo, dice chiaro che io sono un giocatore un pochettino differente, che non è vero, perché lui ha qualità tecnica, per cui può abbinare queste due componenti della fisicità e della qualità tecnica. Io gli ho sempre detto che la mia Roma la vedevo con una prima punta fisica, con una prima punta forte, poi da un punto di vista di palla addosso. Ora siamo qualche metro più lunghi, l'anno scorso eravamo qualche metro più corti, però questo in tutte e due i casi ci sono un po' di vantaggi e un po' di svantaggi. Io la preferisco così, cioè io preferisco una squadra che abbia un po' di fisicità dentro come quest'anno qui, perché tu hai più soluzioni, perché quando poi la partita ti si incassina un po' da un punto di vista tattico degli avversari, da un punto di vista di qualità di campo. Ecco, per esempio, l'altra sera quando abbiamo giocato contro l'Astra Giorgio, quella da risolvi su una palla buttata, su un fattore fisico, è difficile risolverla in quel campo lì, con quella situazione che si era venuta a creare di densità al limite dell'area. Allora, se non hai anche un po' di fisicità, un po' di forza, quelle partite lì difficilmente le porti a casa. Ecco, mentre si vede squadre che hanno meno qualità, si continua a dire che hanno meno qualità di velocità e di palla sui piedi e imprevedibilità e fantasia, però poi diventano anche piuttosto caratterialmente e portano a casa il risultato nella giocata individuale o nello strapotere fisico poi delle situazioni dentro l'area di rigore. Valdiserri, Corriere della Sera. Buongiorno, volevo chiedere, la Roma, che ha il migliore attacco, ha segnato più del doppio dei gol nel secondo tempo, 11 nel primo, 24 nel secondo. È una caratteristica proprio di questa squadra, di questi giocatori, un'idea sua di calcio, aspettare e poi giocarsela. Ci sono tennisti che per esempio sanno che al quinto set ne vincono più di tennisti, per esempio, che se vanno al quinto set ne vincono tante. Ce ne sono altri che magari cambiano modo di giocare perché sanno che al quinto set perderebbero. C'è una ragione per questa Roma che segna così tanto nel secondo tempo? No, perché può essere pericoloso, perché poi puoi non fare in tempo. Io preferirei al contrario, cioè andare in vantaggio prima possibile e gestire la partita dal vantaggio, perché poi gli altri sono costretti a giocare la partita, ad aprirsi. A volte quando è successo, però poi non ci abbiamo preso i vantaggi. E' che ancora secondo me non abbiamo quell'identità così forte, così evidente, che dobbiamo per forza ricercare ed avere prima che sia tardi. Ecco, noi abbiamo la possibilità di far vedere proprio quello che è il nostro marchio, il nostro brand, il nostro timbro. Mentre per il momento non l'abbiamo ancora modellato bene, ecco. Però secondo me ci arriveremo il prima possibile. Rostini, il tempo. Buongiorno. Questo scenario che si aprirà in fondo solo tra una settimana, perché poi Juventus Roma si gioca sabato, di questi due risultati, vi servirà anche per decidere che tipo di mercato fare? Perché si sta per aprire la sessione invernale, posso immaginare, lo chiedo a lei, che un conto è dover intervenire con certe prospettive, un conto con altre. Io penso che la Roma non sia legata a quello che è il risultato della partita. La Roma come ricerca e come obiettivo è quello di migliorarsi sempre, quello di andare poi alla ricerca, di essere ancora più forte. Per cui, qualsiasi siano i risultati, la Roma lavorerà nella maniera giusta. Cioè ora non si smonterà mia la piscina se si perde una partita. Si è montata, quella lì, per fare il recupero dei giocatori, che si fa? Si riporta a Viognosa, perché non ci serve recuperare, perché se si perde non si dura fatica. No. È un discorso diverso. Non ha lavorato, hanno fatto strutture, il Presidente sta mettendo in pratica quelle che erano le intenzioni di cui parlava quando è venuto, perché di lavori ne ha fatti tanti. E la Roma deve essere sempre più forte. Per cui tutti quelli che saranno chiamati a operare per il futuro della Roma, tutti quelli che lavorano nella Roma, daranno il meglio anche in questo mercato di dicembre per avere una Roma sempre più forte. Sonnino, Radio Radio. Io le volevo chiedere, il fatto che la Roma sia costruita per vincere, come ha detto poco fa, fa... Lo dico in tutti, lo dico in tutti. Si dice tutto. Però adesso l'ha detto lei. Sai, no, io se ci penso qualche cosa mi viene per crearti le insidie dell'obiettivo per metterti il Pepe, sai? Però l'ha detto lei questa cosa. Lo diano tutti così, lo diano a noi, lo diano a Napoli, lo diano al Milan, poi qualche una perde, se ne vince cinque, se ne vince una sola, la quattra l'hanno perso. Per cui è un giochino frequente nell'antibavaglio. Però stavolta, ripeto, l'ha detto lei, non l'ha detto nessuno di noi. L'ha detto Bagliolo. Come? Scusa. Dico, l'ha detto lei che è costruita per vincere. Sì, no, l'ha detto Montella. Ok. Le chiedevo se questo fa della Roma... Non ti imbavagliare da solo. No, non mi imbavaglio da solo, anche perché ho la sciarpa, l'ho tirata da giù. Va beh. Le volevo chiedere chi è la favorita domani sera, molto semplicemente. Noi. Se il fatto che la Roma sia... Siamo favoriti noi. A posto. Facciamo l'ultima. Parisi, Centro... Favoriti. Siamo favoriti, si giovanca a casa, siamo costruiti per vincere loro o no. L'ha detto anche... Parisi, Centro Suono Sport. Buongiorno, mister. Sono passati dieci giorni abbondanti dall'infortunio di Salah. Le chiedo come procede il recupero e se c'è la possibilità di rivederlo prima dell'ultima sfida, quindi quella col Chievo, magari anche con la Juve, oppure se si è rassegnato a rivederlo direttamente dopo la Coppa d'Africa, quindi praticamente a febbraio. Io se recupero, visto quello che mi è successo con Francesco così all'ultimo momento, lo porto anche domani sera. Ora al dottore gli ho da chiedere per bene, ma se lui fosse in grado di fare 20 minuti, lo porto anche domani sera. Per cui non mi rassegno per niente a niente. Noi domani sera abbiamo una partita fondamentale dove le forze ci vorrebbero tutte, invece poi capita sempre. Per cui quelle che mi crescono in mano da qui alla gara le metto tutte a disposizione della Roma. Grazie a tutti. Grazie.